È difficile da fuori dare dei giudizi, io non conosco la situazione quindi non è semplice. I Soneri, squadre di calcio ci sono sempre state, probabilmente in Italia un po' di più ma è una cosa abbastanza normale. All'Inter sono stati i Soneri come in altre squadre credo. Penso che Sabatini sia un bravo direttore sportivo e poi basta perché poi non so quale sarà il suo lavoro all'Inter. Credi che i cinesi stiano ancora cercando un assetto? Non lo so, io sinceramente non lo so questo. Per quello che riguarda me al momento non c'è assolutamente niente. I miei progetti sono quelli di trovare qualcosa che possa essere una cosa importante, che mi piaccia.